Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuto a una nuova puntata, abbiamo ospite una band Qui abbiamo ospite il cantante dei Five Siders E a questo punto la prima domanda Se dovessi descrivere com'è la band, come vive la band, come nasce questa band Quando è nata questa band, come la descrivesti? Allora, diciamo che siamo un mix di vari generi Perché ognuno di noi ascolta un genere diverso Cioè è un genere preferito diverso, poi ci incontriamo ovviamente anche su altri generi Però è proprio da questo mix che nasce un po' quello che diciamo ci caratterizza Un po' quello che è il nostro sound Diciamo che questa cosa la diciamo un po' perché ce la sentiamo Ma anche perché l'abbiamo effettivamente riscontrata nelle persone che poi O quando ci vengono a fare i complimenti O comunque devono fare delle considerazioni su di noi e ce lo dicono E la band diciamo che è nata già io, il chitarrista e il batterista Che sono Andrea e Luca Suonavamo in una formazione precedente Facciamo un po' più rock classico diciamo Quindi Bon Jovi, queste cose qua E abbiamo suonato per circa 4-5 anni insieme E poi dopo che si è scelto questo gruppo abbiamo formato i Five Sides E ai Five Sides si è aggiunto anche Stefano che è il bassista E da quel momento appunto si è consolidata questa formazione E piano piano siamo sempre cresciuti di più insieme Ecco appunto come dicevo prima creando questo mix che ci caratterizza Come va questo nome? In fondo voi siete 4, non 5 Esatto, esatto Questo diciamo che è un po' la domanda Anche questa che ci fanno spesso Ed è un po' voluta Nel senso che abbiamo scelto questo nome apposta Perché noi siamo i 4 Ma il nome dice 5 Perché il quinto elemento Che è quello che lega un po' tutti È appunto la musica Quindi quello che ci accomuna Ci lega E ci ha fatto anche conoscere A questo punto parliamo dell'ultimo singolo Anche perché nell'ultimo anno siete stati molto attivi Avete fatto 4 singoli in sequenza E parliamo di Panic Room Come nasce questo brano? Da cosa è tratto ispirazione? Panic Room diciamo nasce un po' dall'idea Diciamo della situazione In cui un po' tutti si possono ritrovare Che è quella che la sera Andando a dormire nella propria stanza Si pensa di diciamo così Abbandonare un po' tutte le preoccupazioni del giorno Mentre invece nella canzone Ed è quello diciamo L'argomento di cui tratta principalmente È che invece questa stanza Diventa in realtà una Panic Room Quindi quando tu ti stendi E vai a dormire nel letto In realtà poi pensi a tutti i veri problemi Che durante la giornata Il quale durante la giornata non pensi Perché sei impegnato ad altro E da questo appunto nasce tutto L'argomento Nasce il titolo della canzone E diciamo ecco A cui la si ispira Ma in realtà Chi scrive le canzioni Probabilmente soffre di insonio Perché non è un tema ricorrente Questa cosa del Del non dormire Abbastanza Abbastanza Devo dire che Mea colpa faccio Anche se Io non scrivo principalmente Solamente i testi Ma anche In qualche pezzo Come ad esempio In uno delle mie parole Uno del nostro primo singolo E anche il bassista Diciamo contribuisce Ecco Però sì Il tema dell'insonnia È molto personale Lo sento molto Quindi Ogni tanto ricorre Nei nostri testi Nei nostri canzoni Nella realizzazione dei testi Per riuscire a essere Abbiamo visto Testi molto lunghi Descritti Oppure Come nell'inglese Essere un po' più sintetici Un po' più scarni Ma Arrivare a tutto Ma in realtà Dipende molto Anche da come nasce Perché ad esempio Se una nostra canzone Come ad esempio Può essere anche appunto L'ultimo singolo Tutto a puttane Diciamo si basa un po' più Appunto sul testo Quindi magari Diciamo è anche Un pochino più lungo Un po' più descrittivo Come dicevi anche tu Mentre altre canzoni Al contrario Come ad esempio Questa è il panic room È nata Più dalla strumentale Della canzone Quindi dalla chitarra Da questi elementi qui Batteria Comunque dalla parte ritmica E a quel punto Diciamo Anche se il testo L'avevo già scritto L'ho poi adattato Alla strumentale Alla metrica della canzone E diciamo È diventato un po' più incisivo Un po' più anche veloce Se vogliamo E a quel punto In contrasto con L'ultimo singolo Tutto a puttane Panic room Invece è un po' più attivo Ecco diciamo Parlando di panic room Appunto in quel caso Si trae Ispirazione Dallo stesso Linea Filosofica Di panic room Oppure È un pochino diverso La nascita Di questo singolo Diciamo che Il tema Un pochino Come dicevi tu Del non dormire Dell'insegnare È ricorrente Però il tema È diverso Nel senso che Per panic room È più una cosa interiore Tratta un tema Di scontri Emozioni Unche cose interiori Che uno si sente personalmente Mentre invece Tutto a puttane È una cosa Anche un po' più Che riguarda Quelli che ci stanno intorno Le relazioni Con le altre persone È come ci sentiamo Nei confronti appunto Diciamo di amici E le persone Che ci circondano Ecco Ma quando è difficile Essere O relazionare Con Soprattutto Le persone cari Secondo te Esatto Esatto Diciamo che Dopo ognuno L'affronta In un modo diverso Ovviamente In base anche al carattere Che uno ha Però È sempre un po' Il fatto di Cercare di tenersi stretti Le persone che ci fa Stare bene Che comunque Ci aiutano a attraversare Questi momenti È molto Cioè È una cosa importante Insomma È un argomento Del quale Un po' tutti Nella band Ce lo sentiamo Vicino Però A volte si fa Anche fatica E come esprimerlo Diciamo così E nell'intutto puttana Abbiamo cercato Di esprimere Proprio questa situazione Questa situazione E questa emozione E invece Questa copertina Che vediamo Del singolo Sembrano più Rappresentazioni Di bicchieri Poggiati Sopra un foglio La sensazione Che forse è necessario Bene Per poter Sì Diciamo che Quell'immagine In particolare Si rifà A una frase Della canzone Che dice appunto Dopo il sesto drink Non si può Mi sopportare Infatti Sono Il segno Che lascia Un bicchiere Sul bancone Di un bar Diciamo così In maniera Un po' astratta E Appunto Diciamo sì Riprende da questa frase qui E abbiamo Siccome era una frase Abbastanza incisiva Che ci rappresentava Abbiamo deciso poi Di farla diventare L'album La copertina Della canzone Nella realizzazione Appunto Delle musiche Precie Ti viene in mente Prima un testo Prima un beat Oppure Accidentalmente Nascono insieme Ma come dicevo Prima Dipende Perché magari Se a me Mi viene in mente Un testo Poi Diciamo Lo faccio sentire Agli altri Faccio ascoltare Agli altri Amici Membri della band Con gli altri ragazzi Poi magari A volte Sono loro Che ci mettono Sopra una strumentale Ci mettiamo Sopra una strumentale Insieme Altre volte Invece Che diciamo Il modo principale Nel quale Componiamo Tramite L'idea Principalmente Del chitarrista La chitarra Ovviamente Facciamo un genere Che prevale Diciamola Un po' Da padrona Però Molte volte Anche con la batteria O da un'idea Del basso Nasce appunto La parte strumentale Un po' Un po' Un po' Musicale Così E poi Io magari Ci metto Su All bassista Da testi Che abbiamo Anche Gari Anche Scritto Li adattiamo E inseriamo All'interno Di tutta La canzone Ecco E invece Suonare al vivo Voi avete Comunque Suonato al vivo Durante quest'anno Quale Suonare sicura Ma Ponto Salire sul palco A volte Qualche collega Ci dice Chi Pensa Chi me lo fa fare Poi in realtà Quando ti C'hai davanti Un pubblico Che inizialmente È silenzioso Poi parla Quel silenzio Ma poi Comincia A sentire Anche se Sei concentrato Perché sei concentrato Sul brano Su non sbagliare Però senti Quell'energia Che sale E poi vedi sotto Oppure senti Quel brusio Quel rumore Da gente Che sta attorno Che a quel punto Tu che sensazioni Provi Diciamo che Sicuramente La sensazione Di stare su un palco Penso che è la sensazione Preferita di musicista Anche si diventa musicisti Principalmente Secondo me Per quello Che è una sensazione Bellissima In particolar modo Come dicevi anche tu In quelle situazioni In cui il pubblico Nonostante magari L'inizio ci può essere Perché magari Non ti conoscono Questi qui Un po' di Di remore Diciamo C'è un po' di distanza Si sente Però magari Dopo anche la prima canzone Che si inizia a suonare E inizia a capire Che il pubblico Comunque Al pubblico piaci Piace la tua musica E allora a quel punto Penso che è lì Che nasca quella sensazione Quella situazione Che a ogni musicista Aspira Ecco Per quanto sia grande O piccolo Il pubblico L'importante è che Le tue canzoni I tuoi testi Il tuo messaggio arrivi Ecco Invece poi Quando finisci a suonare Chiaramente Scendendo al palco Comunque L'incontro Di queste persone Che ti guardano Con quella faccia Contenta Di aver passato Quella mezz'ora Un'oretta Nell'ascoltare Dedicato a te E ti fanno Non solo i complimenti Ma ti guardano Appunto Contenti Perché forse Sei riuscito A ottenere Quel risultato Che era Un punto di partenza Che speravi Che sensazione provi Eh diciamo che Come dicevo Che prima C'era una sensazione Difficile Un po' spiegarle Però sicuramente Una sensazione Bellissima Impaggabile E penso che Soprattutto Diciamo I primi tempi Quando un po' Ti devi ancora Far conoscere Diciamo Inizia ad essere I primi Anche così I primi parchi Un po' più importanti Poi quando scendi Ti vengono a fare I complimenti Penso che Sia la La ricopensa Migliore Anche più di mille Cascieco Diciamo così Noi abbiamo Notato Un po' D'influenza Il rock Anche italiano Abbiamo avuto La sensazione Di ricordare Un po' I timoria Un po' Tino Tanti altri gruppi Che in realtà Fanno Hanno fatto E fanno Rock Quello rock Italiano Se sono mai Fatto riferimento Comunque qualcuno Ti ha fatto notare Queste cose Oppure Ti è apparso Strano No Diciamo che In generale Che sia rock Italiano Oppure Anche straniero Sicuramente ogni volta Ci dicono che Come dicevo Anche inizialmente La cosa che caratterizza Il nostro mix Quindi Di ascolti O comunque Di gusti Quindi molte volte Ad esempio Il nostro chitarrista Ha una passione Smisurata Per i negrita E un po' Ovviamente Lo stile Del chitarrista Che è Drigo L'ha preso Quindi un po' Ovviamente Senza mai copiare Però ispirandosi Un po' Lo porta Ecco questo All'interno Della band Ma come ognuno Ognuno di noi Con i suoi artisti Ad esempio Per fare un esempio Che è magari un po' Stupido Però Il mio band preferito Sono i Green Day E un po' Lo stile del cantato Del cantante Di Billy Gioco Che è il cantante Un po' Lo riporto Diciamo Nel nostro Nel nostro modo Di suonare Ecco E ognuno E ognuno a suo modo Il bassista Il batterista Con i propri artisti E a questo punto Progetti futuri Oltre a promuovere Chiaramente Tutto Tutto a puttane Ci sono progetti Diciamo Adesso non voglio Spoilerare troppo Ecco Però Sicuramente Un progetto Evidente È far uscire Un EP Oppure un album Nella prima parte Dell'anno E poi Sempre Magari Su questa Su questa onda qui Cercare di iniziare Anche a cercare Di comporre Proprio un album Un po' più strutturato Un po' più corposo Anche a livello Di pezzi Ecco Poi sicuramente Nel periodo estivo Cercare di suonare Il più possibile In giro Per promuovere Appunto Queste canzoni Che sono uscite In questo periodo Se ti provo a essere Un duetto Con un artista Così La mattina Ti direbbero Guarda Ho quest'artista Quale ti piacerebbe Oltre che a mente Green Day Che Ci sono altri Gruppi Che ti piacerebbe Che suonassero O Facessi parte Di quel momento Beh Diciamo che Ce ne sarebbero tanti Sarebbero troppi Da elencare Però Comprendendo Anche un po' Diciamo i gusti Degli altri I miei compagni Di band Penso che Se dovessero Farcela tutti Nel stesso momento Questa domanda Con Diciamo anche Un po' Gli ascolti Che stiamo facendo In questo momento Penso che sia La band Con cui vorremmo Suonare O fare un duetto O un feat Siano i Fask Che sono diciamo Che è un po' Più vicino a noi Da un certo punto Di vista del genere Ecco Da che è composta La band? La band è composta Da Il chitarrista Che è Andrea Dal batterista Che è Luca Il bassista Stefano E da me Che sono il cantante E a questo punto Intanto ti ringraziamo Per essere stato ospite A questo punto Vanno due cose fondamentali Dove potervi raggiungere Potervi ascoltare E saluti finali In generale Su tutte le piattaforme Ci potete trovare Però principalmente Per vedere un po' Anche le nostre attività Le nostre sponsorizzazioni Ci trovate principalmente Su Instagram E Poi Sì Vicino a mente Su quella pagina lì Poi se volete vedere Un po' I nostri retoscena Anche un po' Le cose un po' Più stupide Che facciamo Ci trovate ultimamente Anche su TikTok Che ormai Sta prendendo piede Anche noi Ci siamo fatti prendere Sì Però A livello musicale Di brani Si trovate su ogni piattaforma È stato un piacere Ti ringrazio Anche tu Pietro Di averci invitato Di avermi invitato E niente Un saluto a tutti E andate a ascoltare Tutto puttana L'ultimo singolo Dei Five Side Studio 7 TV E Sport e Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Questo ti spaventa Ma come sempre Manderò Tutto quanto A buttare Le cose un po'